ciao oggi si fa l'esercizio darts della traccia erlang di exorcismo leggiamo le istruzioni scrivere una funzione che ritorni i punti guadagnati in un singolo turno di una partita di freccette freccette è un gioco dove i giocatori lanciano le freccette verso un bersaglio nel nostro nel nostro gioco il bersaglio ricompensa con quattro differenti punteggi che dipendono da dove la freccetta finisce se la freccetta finisce fuori dal bersaglio il giocatore guadagna non guadagna punti zero punti se la freccetta finisce nel cerchio più esterno il giocatore guadagna un punto se la freccetta finisce nel cerchio di mezzo il giocatore guadagna cinque punti se la freccetta finisce nel cerchio più interno del bersaglio il giocatore guadagna 10 punti il cerchio più esterno un raggio di 10 unità che è praticamente equivalente al raggio totale dell'intero bersaglio il cerchio di mezzo a un raggio di cinque unità e il cerchio interno a un raggio di una unità i cerchi sono concentrici scrivono una funzione che è dato un punto nel bersaglio definito da dalle sue coordinate cartesiane x e y dove x e y sono reali ritornare i punti guadagnati da una freccetta che è atterrata in quel punto ok per risolvere questo esercizio abbiamo necessità di calcolare la distanza di un punto dall'origine della del degli assi e io con somma vergogna vi devo dire che non mi ricordo la formula è matematica de delle medio addirittura delle elementari ma purtroppo non mi ricordo la formula ho vaghi ricordi ma non mi ricordo la formula esatta per cui la cercherò con vergogna come ho detto quindi distanza di un punto dall'origine che impariamo insieme ecco questo è quello che mi merito questo è quello che mi merito anche scuola ho scritto con la capo mi merito proviamo impariamo insieme temo quello che potremmo trovare in questi questi siti si si adesso si la ricordo no no adesso me la ricordo x 1 meno x 2 alla seconda più y 1 meno y 2 alla seconda si 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 e siccome il secondo punto è l'origine degli assi è 0 quindi la formula è ok quindi radice quadrata di x alla seconda più y alla seconda questa è la nostra formula si 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 no no adesso adesso me la ricordo facile facile dopo averla letta allora quindi tutto l'esercizio sta nel calcolare nel calcolare quella quindi apriamo il sorgente ok quindi voglio scrivere una funzione chiamiamola distanza che riceve x e y e quindi calcola la radice a ecco devo controllare se erlang spero di sì a un a un modulo per per la matematica fondamentalmente erlang l'esercizio si chiama da vediamo quindi sarà ma esatto ok ma si scuola root e c'è anche paul se vogliamo fare la la potenza con con una funzione invece di scrivere x per x ok ecco potrei importarle queste due funzioni così vi faccio vedere come si importano le cose in erlang si deve specificare prima il modulo math e poi la lista di funzioni che vogliamo importare e in erlang sono definiti da nome arity quindi vogliamo square root arity 2 no square root arity 1 che dico e paul che ha arity 2 penso perché gli devi definire che si scuola root 1 e paul 2 in questo modo possiamo scrivere square root senza qualificarla con con il nome del del modulo quindi vogliamo la radice quadrato di x alla e 12 x alla seconda più la radice qua più y alla seconda y ok quindi questa dovrebbe essere la nostra la formula per calcolare la distanza di del punto dall'origine perfetto quindi possiamo chiamare una funzione score ma con arity 1 passandogli la distanza dal centro sì quindi stesso nome ma arity diverso questo dimostra ancora una volta quello che si dì quello che si dice sempre cioè che le funzioni sono definite dal dal nome e dall'arty quindi in questo caso possiamo fare un if direttamente sulla distanza allora non mi ricordo quali erano i criteri ok mi ricordo quali erano i criteri di solito me lo copio me lo copio sempre ma stavolta me ne sono scordato allora ok ok quindi if d quindi è maggiore no ecco vedi mi serve anche mi serve anche la il raggio vabbè comunque non importo capiarmelo basta leggerlo 10 unità l'esterno 5 unità il centrale e quello interno una unità perfetto quindi se d è maggiore di 10 voglio ritornare 0 0 punti se d è maggiore di 5 voglio tornare un punto se d è maggiore di 1 torno 5 punti e se di ma no possiamo dire che in tutti gli altri casi quindi true torno 10 punti dovrebbe già funzionare proviamo a lanciare i test esatto i test passano quindi abbiamo visto come importare funzioni da un modulo e come sempre abbiamo visto che le funzioni si definiscono dal nome arity quindi niente ci si vede al prossimo esercizio quindi ci si vede al prossimo esercizio è questo quindi ci si vede al prossimo esercizio